Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con una breaking news in A1, 5 km di coda per lavori con tendenza all'aumento verso nord tra Firenze Imprunete e Bivio 1 con planari Firenze Nord. Sempre in A1, coda per traffico in uscita a Firenze Scandici per chi proviene da Bologna. In A11, rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Pistoia e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Arriva in Fipirì per lavori e rallentamenti nelle due direzioni tra Empoli e Montelupo. Per traffico inoltre, coda verso Firenze tra Scandici e Firenze e viaduta all'Indiano. Siamo al traffico ferroviario per l'attesa del transito di un altro treno. Il regionale 18465 Lucca Firenze sta viaggiando con 23 minuti di ritardo. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, in Viale Gramsci per intervento con piattaforma elevatrice, da quest'oggi fino al 23 dicembre sarà chiuso il controviale tra Via Beccaria e il Civico 4. Buona versi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!